All'improvviso ci siamo dovuti fermare. Ci siamo adattati a una vita diversa, scoprendo risorse che non immaginavamo di avere. Abbiamo capito cosa conta veramente. Abbiamo ritrovato lo spirito di solidarietà. Adesso è il momento di rialzarci, con la tenacia e l'orgoglio della gente di questo territorio. A piccoli passi, ma con grande speranza. Siamo una sola comunità, ora più che noi. Ripartiamo insieme. Noi ci siamo.